Hai una compagna? Una fidanzata? No. Non ce l'hai una donna? Sì, ma non sono delle fidanzate. E cosa sono? Solo scopate? Sì. E ne hai molte? No. Ti dà fastidio parlarne? No, che mi frega. Ma tu avevi molti uomini? Prima? Sì. Stavo con Simone. E basta. Ce ne sono stati altri, ma nemmeno così tanti poi. Mi sentivo... Mi piaceva essere guardata. Mi piaceva sapere che li seducevo. Mi piaceva vederli eccitati. Ma dopo un po' tutto questo mi annoiava. E adesso? Niente. Non so neanche più a cosa somiglia. Non so nemmeno se funziona ancora. Non hai più voglia? Non ho detto che non ho voglia. Normale che ho voglia. Dai, vieni. Cambiamo argomento. Aspetta, lascia. Faccio io? No, scusa. Ma le gambe nuove a che cosa mi servono, se no? Ciao. Ciao.